Stanno andando avanti i lavori della bretella ferroviaria Sulmona, la nuova opera che tramite una linea di circa 800 metri e una nuova stazione a Santa Rufina permetterà di bypassare la stazione centrale di Sulmona e di arrivare da Pescara direttamente all'Aquila senza cambiare treno, velocizzando i collegamenti. Ci troviamo proprio sul nuovo binario, un binario di circa 700 metri che collegherà la linea Pescara-Roma alla linea Sulmona-L'Aquila. Questo sarà proprio un raccordo tra le due linee servito da una fermata di nuova realizzazione che vedete alle mie spalle, la fermata di Santa Rufina. Il fabbricato ospiterà al pian terreno una sala d'attesa, mentre il piano superiore ospiterà le apparecchiature tecnologiche collegate con l'apparato centrale computerizzato di Sulmona. Le opere sono state molteplici, quindi la realizzazione del fabbricato, un piazzale di circa 2700 metri quadri che ospiterà 40 posti auto, oltre alla fermata dell'autobus e dei posti per i taxi. La realizzazione di due sottopassi, uno più grande che collegherà la viabilità principale alla strada provinciale 51 e un altro più piccolo che collegherà in prima fase di attivazione la via della stazione vecchia che poi porterà sempre alla strada provinciale. I lavori sono a buon punto? Sì, i lavori sono a buon punto, prevediamo di attivare questa prima fase di attivazione per fine anno, per poi completare con i successivi lavori legati più che altro alla viabilità e alle rifiniture del sottopasso più grande nel primo trimestre del 2025. L'opera, che ha un costo di 13 milioni di euro, distante circa 3 chilometri dalla stazione centrale di Sulmona, sarà dotata di un marciapiete di 250 metri, di due pensiline, di monitor e segnaletica acustica per le informazioni al pubblico. Questi lavori hanno il fine ultimo di consentire ai viaggiatori, in partenza da Pescara o dall'Aquila, di avere un collegamento diretto, diretto nel senso che saranno evitate le inversioni di marcia all'interno della stazione di Sulmona o le eventuali coincidenze con il servizio che verrà offerto, quindi ci sarà un abbattimento dei tempi di percorrenza. Sarà anche attivato da Rete Ferroviaria Italiana un nuovo sistema tecnologico per la gestione del controllo della circolazione ferroviaria nella stazione di Sulmona, che rientra negli interventi propedeutici all'imminente attivazione della bretella. Ci troviamo nella nuova cabina, cabina di ultima generazione, formata da apparecchiature elettroniche che andranno a sostituire il vecchio impianto elettromeccanico che ha fatto il suo onorato servizio per più di 40 anni. È un impianto di ultimissima generazione che nasce con delle logiche di duplicazione di tutte le apparecchiature che comandano gli enti di piazzale, in modo da garantire una maggiore disponibilità. Il sistema permette inoltre di fluidificare e velocizzare quella che è la circolazione ferroviaria, perché i comandi che vengono impartiti sono elaborati e trasmessi al piazzale in maniera sicura, efficiente e ancora più veloce rispetto al sistema tradizionale.